Ritorniamo su Inter Roma, signori e signore, ritorniamo lì perché ci sono delle dichiarazioni, ormai non fanno quasi neanche più testo, comunque non mi meravigliano affatto, dichiarazioni che non saprei neanche più come descrivere, sconclusionate, sconclusionate non sarebbe l'aggettivo ideale perché non sono prive di logico, cioè quando Mourinho dice qualcosa punta sempre un obiettivo, c'è poco da fare, però nel momento in cui otto volte su dieci stai lì a parlare dell'arbitraggio scientifico contro la tua squadra, alla lunga a me sembra più che altro un messaggio distruttivo, quindi se c'è da trovare un aggettivo dico distruttivo. Partiamo da quello per descrivere un po' quello che è stato Inter Roma, e soprattutto voglio anche controbattere a dichiarazioni che io trovo veramente astruse ragazzi, comunque un po' fuori dai tempi, un po' fuori dai tempi. E prima, prima di fare questo vi invito come al solito a lasciare un like, magari a lasciare il pollice in su, magari a condividere se lo state guardando su Facebook, magari fate quello che vi pare, quello che vi aggrada, che non è mai sbagliato, per cui se non volete fare una mazza, non fate una mazza, ci mancherebbe altro. Ultimo consiglio, Ipermatch, guardate quanto sono belli di Marco e Felipe Anderson, sono graziosi, sarebbe più graziosa anche la Q3, perché potete vincere innanzitutto, grazie a Ipermatch, nuovo modo, innovativo, ormai neanche poi tanto, perché Ipermatch ormai si fa sentire, gioco per il fantacalcio e ricordiamolo ancora una volta, come dico sempre, sfrutta la tecnologia blockchain, i giocatori sono gli NFT, in quanto tali possono essere scambiabili, adesso c'è anche il bonus rarità, durante il percorso c'è la possibilità di crescita, di vincere o comunque di ottenere token, in tanta, veramente tanta carne al fuoco, per cui passateci, link in descrizione, Ipermatch, divertentissimo. Sì, allora partiamo da Mourinho, cioè proprio dalle dichiarazioni del MOU, dello Giossé nazionale, che proprio alla TV locale, Roma TV, ha detto delle robe, ragazzi, che adesso vi faccio ascoltare, poi insieme, no? Le riprendiamo. Penso che un feeling di tutti, non solamente il mio, penso che un feeling di tutti, anche di loro, anche dello proprio stadio, era che la partita finirebbe con, sicuramente con un pareggio, perché la squadra è stata molto tranquilla, con tutte queste difficoltà, dopo il giallo a giocatori che sembravano scelti, i due difensori centrali, Mancini indica i due giocatori di centrocampo, più posizionali, parelisi, il Cristante, loro al primo giallo, cambiano subito, Pavard, noi ovviamente non possiamo fare, fare questo, mi dispiace il risultato per i ragazzi, perché hanno fatto veramente un sforzo grande, con un gol perfettamente evitabile, perfettamente controllabile, e per questo dispiace, mi dispiace anche che non c'è tanto rispetto per i miei giocatori, perché l'atteggiamento dell'arbitro con Dica e con Mancini subito dimostra tutto, però contento con il concetto di squadra nella difficoltà, la difficoltà di non avere metà di squadra, perché Spinozola, Smalling, Di Balla, Pellegrini, tutti questi qua, è a metà squadra, e venire qua senza metà squadra con un altro regalo della Liga, perché non possiamo giocare lunedì, dovevamo giocare domenica, i ragazzi sono stati bravi nel suo atteggiamento, per questo la mia tristezza, perché loro meritavano di più. E questa è la dichiarazione di Mourinho, su una cosa sono d'accordo, quindi partiamo sulla cosa che mi vede a braccetto, la Roma aveva tanta assenza, e purtroppo, bisogna dirle, da tanto tempo, cioè, o per un motivo, o per l'altro, la Roma ha tante defezioni, purtroppo, e citando Smalling, Di Balla, Pellegrini, Spinazzola, Renato Sanchez, e la lista è anche più lunga, ci rendiamo conto davvero che ci sono giocatori che mancano alla Roma, quindi su questo io sono d'accordo, per carità di Dio, quindi alcune difficoltà posso anche immaginarle, però non prendiamoci in giro, la Roma non ha mai fatto vedere, la Roma di Mourinho, perlomeno, non ci ha mai mostrato un gioco sfavillante, cioè, anche quando mancavano meno di questi giocatori, forse al completo non l'abbiamo mai visto, questo devo dirlo, ma non è nelle precorrogative di Mou, fare un gioco d'attacco, di palleggio, giocare nella metà campo avversaria, assolutamente no, quindi, giustifica alcune difficoltà, però la Roma ieri ha toccato la palla nell'area dell'Inter due volte, due volte, un solo tiro nei 90 e passa minuti, cioè, un gioco che latita completamente, e questo non può essere solo colpa delle assenze, quindi, diciamola, diciamola tutta, anzi, io vi dico, la Roma, ancora una volta, mi ha dimostrato che è forte, mi ha dimostrato che è una squadra forte, perché, anche contro le statistiche, contro la logica, contro le percentuali, e le ho appena citate, ripeto, un solo tiro in porta, e, e due tocchi in aria, significa che, pericolo è di Kray Zero, questo significa, in teoria, no, avendo una squadra forte, la Roma, comunque, nonostante questi, ripeto, questi numeri, è riuscito a creare un'occasione da gol importantissima, cioè, Cristante, con quella zuccata, ha impegnato seriamente, Sommer, e se non è una squadra forte, cioè, tu veramente, non dimostri, non dimostri di fa niente, invece, invece, non è così, perché ancora una volta, lo ripeto, la fanno passare per la squadra dissestata, e no, per me la Roma, non è una squadra dissestata, assolutamente, e non è neanche una squadra, così, come posso dire, che è sotto l'occhio del ciclone, da parte degli arbitri, il complotto, no, ci sono delle forze oscure, contro la Roma, l'atteggiamento, non c'è rispetto, per i giocatori della Roma, non c'è stato rispetto, per indicare Mancini, cioè, Mancini, ha un atteggiamento, che, non dico, nove volte su dieci, andrebbe buttato fuori, a calci nel sedere, ma, è, sicuramente, un atteggiamento, che, che contrario, che, che, che contrasta, diciamo, eh, le linee arbitrali, c'è poco da fare, questo qua, ogni volta, va, innanzitutto, va a muso duro con l'arbitro, becchi l'arbitro, che te la fa passare, becchi l'arbitro, che non te la fa passare, ma questo non significa, che non c'è rispetto, eh, non significa, che c'è sempre, questo complotto, contro la Roma, semplicemente, ci sono, degli arbitragi, eh, che, sono, non lo so, se definire di polso, comunque, cercano subito, di, di bloccare, sul nascere, varie polemiche, poi, fatemolo dire, se giochi, per 90 minuti, nella propria tre quarti, forse, anche in questo caso, io mi affido alla logica, alle percentuali, alla statistica, e forse, se giochi sempre, nella propria tre quarti, qualche ammonito in più, lo becchie, ma forse, dico forse, per ipotesi, credo, eh, e, e tra l'altro, ricordo anche, un episodio molto netto, di, Paredes, su Turam, già ammonito, già ammonito, che andava nuovamente ammonito, e non è stato, e non è stato sanzionato, ma non sto qui, a parlare, no, di sfavori, di trame, di complotti, no, eh, in realtà, si parla di Mourinho, come un grande comunicatore, e, io potevo essere anche d'accordo, a 15 anni fa, 10 anni fa, per me non è un grande comunicatore, Mourinho, cioè, sta storia che Mourinho, è un grande, secondo me è una roba che vive di rendita, ragazzi miei, grande comunicatore, cosa? se oggi, otto volte su dieci, te la prende con l'arbitraggio, per non parlare di altro, per non parlare della tua squadra, per non parlare dei risultati, che oggi, oggi, la Roma sarebbe a 11 punti dall'Inter, non lo so, cioè, eh, o comunque non è l'undicesimo, non è il primo posto che interessa la Roma, ma comunque è il quarto, e oggi la Roma è a 4 punti, non è, non so neanche tantissimi, eh, per carità di Dio, potrebbero diventare, potrebbero diventare, però, eh, sei, con la vittoria della, della Fiorentina, e c'è anche, e c'è anche l'Atalanta, quindi ancora, è tutto, è tutto da vedere, per cui, cioè, un grande comunicatore no, perché siamo nel 2023, e bisogna fare un passo in avanti, cioè, non bisogna esasperare sempre, accanirsi contro gli arbitraggi, non mi sembra costruttivo, a me sembra distruttivo tutto ciò, e poi, andiamo all'ultima, l'ultimo dibattito, il feeling, la sensazione che doveva finire, che si andava per lo 0-0, ma si andava cosa? si andava perché l'Inter non aveva trovato, non era riuscito a segnare, ma, tu ti affidi solo all'Inter, che non segna, non che hai trovato, cioè, in parte le hai anche trovato le contromisure, ma, ragazzi, non prendiamoci in giro, nei primi 16 minuti, tre occasioni clamorose dell'Inter, la traversa di Cialanoglu, la parata importante di Rui Patricio sotto Ram, il tiro a giro, che va veramente fuori di un poco di De Marco, basta che lì fa un gol l'Inter, la partita, non so se finisce soltanto 1-0 oggi, quindi, mi è sembrato anche abbastanza casuale, un po' come è capitato l'altra sera per la Juventus, io sento dire, è veramente, è sbagliato il concetto, solo perché segni in un dato minuto, sei fortunato o sfortunato, ma che significa? Cioè, che segna all'ultimo minuto, sei stato fortunato, non è vero, cioè la Juventus ha creato per lo meno 7-8 palle di gol, clamorose, ha segnato all'ultimo minuto, ma la sensazione è che la Juventus quella partita, la voleva vincere, e la doveva anche vincere, per come ha giocato, la stessa cosa ieri l'Inter, la stessa cosa, identica, l'Inter ha avuto un sacco di occasioni, che poi abbia segnato all'ottantunesimo, non fa sì che fosse giusto il pareggio, solo perché segna all'ottantunesimo, cioè, delle robe, che io non, cioè, sembra quasi di andare a rispondere ai bambini di 10 anni, che gli devi far capire i concetti, cioè, è una roba, è una roba fuori dal mondo, mi sembra veramente una roba assurda, e questo è, detto ciò, contento della prestazione dell'Inter, contento, anche delle scelte dello stesso Inzaghi, che spesso abbiamo quindi criticato, sindacato, io sono uno dei tanti, chiedevo magari una sostituzione prima, invece in realtà, tiene Di Marco, più del dovuto, magari fa l'assist, la scelta di Aslani, che comunque dà quella palla clamorosa, e io quando l'ho tolto Cialanoglu, solo perché ha munito, magari, no, non lo so, e invece ha avuto ragione lui, quando uno ha ragione, io alzo assolutamente le mani, l'Inter, per quanto mi riguarda, è davvero la rossa più attraziata, io vedo queste partite, e dico, ma, la parte negativa di me, quella che vede il marcio ovunque, dice, come riusciremo a perdere anche questo scudetto, c'è questa parte di me, vi dico la verità, perché mi sembra davvero che l'Inter sia la più attrezzata, anche la più collaudata, consentitemi di dire questo, perché poi, l'altra forza importante è la Juventus, è ancora nel gioco, comunque in tutto il resto, la vedo molto dietro all'Inter, come squadra, come struttura di squadra, e quindi vediamo, vediamo quello che succederà, ma sempre calma, calma e sangue freddo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa se volete, e se volete fate quello che vi parlo, un grande abbraccio ad Anesi.